mentre in italia era notte fonda dall'altra parte dell'oceano atlantico i maneschi indi damiano david scrivevano una nuova importante pagina della storia della musica italiana la band romana seconda classificata ad x factor 2017 dietro al desaparecido lorenzo licitra partecipava in veste di special guest agli mv video music awards 2022 evento per eccellenza dedicato ai migliori videoclip musicali in circolazione i maneschin griffati gucci hanno partecipato ai vm assi in quanto inclusi nella scaletta dei performer come nominati in due importanti categorie rispettivamente best alternative per il singolo you wanna be your slave e best new artist una serata che si è rivelata trionfale per il gruppo che alla fine ha vinto il moon person proprio per il primo fra i due premi qui citati i maneschin in ogni caso erano per l'appunto presenti allo show americano anche per esibirsi sulle note del loro ultimo singolo supermodel non solo non era mai successo che un artista italiano vincesse un vma ma è anche inedito il fatto che un artista nostrano avesse uno spazio fra le live performance di questa prestigiosa serata l'esibizione dei maneschin è stata senza ombra di dubbio quella più chiacchierata degli mvvmas i motivi per cui tutti hanno parlato della performance sono fondamentalmente due e sono entrambi legati alla messa in onda e agli outfit indossati dai membri del gruppo damiano david infatti si è presentato sul palco con il lato b in bella vista che ha scosso fieramente a favore di telecamera dall'altro lato si è molto parlato della scelta della regia di censurare l'esibizione con un campo lungo che ha impedito ai fan di godersi la performance da casa in questo caso la scelta è stata legata al fatto che a causa di un problema con il suo outfit la bella bassista victoria si è ritrovata a seno scoperto come giorgia soleri ha reagito all'esibizione dei maneschin ai vmas come avrà reagito dunque l'attivista e influencer giorgia soleri nonché la fidanzata di damiano a questa esibizione scollacciata la soleri si è limitata a condividere un'immagine del suo fidanzato di spalle con l'emoji che si copre gli occhi per la vergogna qui sotto potete recuperare la suddetta instagram stories